buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale auguri e buon anno spero che avete passato delle belle feste e soprattutto che non avete mangiato tanto allora sono tornata come avevo promesso con un tutorial ormai diciamo primaverile se possiamo dire se vi ricordate l'anno scorso in un video creazione ad aprile avevo mostrato un paio di orecchini che ovviamente avevo messo da parte e mi sono dimenticata di fare il tutorial e adesso le ho fatti anche in altre colorazioni che mi piacciono davvero tanto e volevo mostrarveli questi sono quelli che avevo fatto l'anno scorso e non avevano le monachie le avevano i perni però io ho cambiato siccome che le ho tenuti per me che mi piacciono davvero tanto e l'indosso quasi tutti i giorni e con le monachie lì io mi trovo meglio con invece che i perni ecco questi vi avevo mostrati e le avevo dato il nome di un di un fiore che a me piace davvero tanto che si tratta delle primule o primule non so esattamente come si pronuncia comunque avete capito è che ho fatto questi l'anno scorso che sono veramente stupendi dove ho messo anche queste piccole goccine che sono meravigliose e poi mi sono sbizzarita un po e ho fatto anche questi che anche questi sono i miei preferiti veramente mi piacciono tantissimo ma veramente tanto 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 magari per il colore come sapete che io amo questo colore ma sono anche molto molto belli che qui ovviamente ho messo i perni finché non cambio idea tenerli per me metto le monachie le vabbè quindi le ho fatte anche in questa colorazione dove ho modificato un pochino allora come vedete qui l'incastonatura che un incastonatura neti ho iniziato con i cipollotti e le 11 0 invece qui ho messo le 8 0 al posto delle 11 perché qui mi sembrava il rivoli troppo coperto quindi volevo dare un po più spazio diciamo il rivoli e alla sua bellezza per mostrare un po di più la sua bellezza come vedete anche qui ho utilizzato una b ed è veramente stupendo quindi l'unica differenza è questa tra i due modulini del resto è tutto uguale qui ho giocato un po ho appuntito le i petali quindi potete giocare come volete se volete lasciarli più dritti oppure più appuntiti ecco e ovviamente anche se non sono perfetti i fiori non sono perfetti ok quindi quelli questi e poi oggi faremo il compagno di questo qui che lo faremo insieme che anche questo è davvero stupendo e una meraviglia che anche qui ho utilizzato dei perni anche se sono a forma di roselina secondo me stanno bene bene passiamo alla lista dei materiali e poi al tutorial come materiali ci serviranno le ginkgo che io uso queste ginkgo duo chateau yant violet che sono una meraviglia veramente stupendo una colorazione meravigliosa poi ci serviranno le 11 0 che sono le permanent finish calvanese d'alluminio dalla tovo e le 80 che sono le crystal crystal line e mi sembra poi ci serviranno dei cipollotti che uso questi su color argento che sono i cipollotti 3x4 poi ci serviranno un perno o una monachella quello che preferite un anellino dipende dalla vostra scelta se mettete l'anellino la monachella oppure il perno scusate poi ci servirà un rivoli da 12 mm filo io uso un filo miyuki e ago pony numero 10 poi ovviamente servirà un paio di forbici e delle pinze per aprire e chiudere l'anellino per la monachella o il perno sì questo è tutto passiamo al tutorial ecco qui come vedete io mi sono già portata avanti quindi ho inserito sul filo 6 cipollotti 3x4 alternati a 680 ho chiuso a cerchio ho fatto un paio di nodini e mi sono allontanata un po dal nodino che l'ho fatto qui quindi ho attraversato un po di perline adesso ci portiamo ad uscire da 1 80 e prendiamo sul nostro ago 5 11 0 e saltando il cipollotto ci inseriamo nell'80 successiva quindi per chi lo sa già potete proseguire da sole e una incastonatura netted quindi dobbiamo fare sì mi ripeto sempre quindi quindi vabbè allora uscendo da 1 80 prendiamo 5 11 e ci inseriamo nell'80 successiva ripetiamo questo passaggio per tutto il giro bene finito questo giro mi sono portata ad uscire dalla perlina di punta delle 5 11 che abbiamo appena inserito adesso prendiamo altre 5 sull'ago altre 5 11 0 e ci spostiamo nella ci inseriamo nella perlina di punta dell'archetto successivo e tiriamo bene il filo ecco continuiamo così fino alla fine del giro bene fatto anche questo giro come l'altra volta mi sono portata ad uscire dalla perlina centrale delle 5 vedete la terza adesso prendiamo una 11 e ci inseriamo nella perlina centrale dell'archetto successivo questa qui ecco quasi pensavo di aver sbagliato invece no quindi due da un lato due dall'altro questa centrale e tiriamo il filo ma non troppo perché dopo dobbiamo inserire il nostro rivoli quindi continuate così per tutto il giro bene arrivati a questo punto mettiamo il nostro rivoli a faccia in giù e tenendolo fermo con le dita tiriamo bene il filo ecco vedete si sta incastonando perfettamente adesso fate un paio di giri di rinforzo e ci vediamo dopo eccoci qui allora il nostro rivoli è ben incastonato adesso io ho attraversato queste perline e mi sono portata ad uscire da questa perlina di incrocio diciamo quindi questa qui adesso prendiamo una 11 se ci riesco perché sta scapando allora facciamo il lavoro prendiamo una 11 un aginco dal foro più sottile e 4 11 3 e 4 ecco così li portiamo alla fine del lavoro in questo modo rientriamo nell'altro foro libero mette fuoco nell'altro foro libero della ginkgo ecco in questo modo e tiriamo bene il filo prendiamo una 11 e ci inseriamo nella perlina di incrocio dell'incastonatura subito dopo e tiriamo bene bene il filo ecco vedete il nostro primo petalo è fatto dobbiamo continuare così per tutto il giro ecco qui finito il nostro giro come vedete ci troviamo ad uscire dalla perlina di incrocio dell'incastonatura inserendo l'ultimo l'ultima ginkgo questa sequenza di perline ci troviamo ad uscire da questa perlina qui adesso prendiamo 4 11 su lago e saliamo sopra in queste quattro perline e dai ce lo facciamo oggi forse ecco ce l'ho fatta quindi le 4 11 ci inseriamo io per adesso mi sono inserita solo nelle prime due perché voglio inserire solo in questo petalo una 80 che farà da solina per il mio anellino come vedete quindi solo sul primo petalo poi procediamo ugualmente quindi se volete andare avanti e poi fate la solina per le monachele o quello che volete io invece inserisco questa 80 che mi sembra più più carino così quindi sono entrata nelle prime due adesso ho messo ho inserito sull'ago la 80 e mi inserisco anche nelle altre due quindi vi ricordo che questo procedimento lo faccio solo su questo primo petalo adesso prendiamo altre 4 11 ecco qui e ci inseriamo nella 11 di incrocio dell'incastonatura qui sotto e tiriamo il filo ecco come vedete il nostro primo petalo è formato e adesso dobbiamo continuare di nuovo quindi vi faccio vedere anche questo petalo e poi fate da sole quindi uscendo da questa perlina di incrocio prendiamo 4 11 e ci inseriamo nelle 4 11 sopra la ginko quindi le attraversiamo tutti a questo punto prendiamo altre 4 11 3 e 4 tiriamo bene il filo e ci dobbiamo inserire nella perlina d'incrocio dell'incastonatura ecco questa qui e tiriamo bene il filo ecco in questo modo continuate così per tutto il giro ed ecco qui il nostro orecchino che è pronto io ho fatto un paio di nodini e ho tagliato il filo adesso dobbiamo inserire il nostro perno quindi prendiamo l'anellino e ci inseriamo in questa 8 0 prendiamo anche il perno ecco e con l'aiuto delle pinze chiudiamo se ci riesco ecco qua fatto ed ecco qui i nostri orecchini pronti che sono veramente stupendi niente questo è tutto spero comunque che sono stata chiara nei passaggi fatemi sapere qual è la vostra versione preferita e aspetto di vedere ovviamente tutte le vostre versioni meravigliose bene io vi saluto e vi auguro una buona settimana e un buon inizio primavera se possiamo dirlo tanto con questi colori e con questi fiorellini possiamo dire che già è arrivata la primavera e niente questo è tutto non mi dilungo più di tanto vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao ciao